La radio, le luci, le luci, la radio, tutto il posto, cos'è di fare? Sto guardando quello che stava a fare, stava a fare, vuoi andare a dire perché è andata di là, Lucio? Non voleva bagnare la macchina, vai piano, sennò si misporta tutto il colo su. E' come la pietra rossa che abbiamo fatto. La pisa? E' arruccia. E' un pochino, il verbo piano.